Buonasera a tutti cari ascoltatori meteo e bentrovati in questo nuovissimo video. Prima di iniziare vi ricordo di iscrivervi al canale, lasciare un bel like e attivare la campanellina per non perdervi nessun nuovissimo aggiornamento meteo. In questo video andremo a vedere una possibile eruzione d'aria più fredda che potrebbe arrivare a partire dopo il 20 di marzo. Perché stando agli ultimi aggiornamenti, un nucleo d'aria più gelida, un piccolo pezzo del volo cipolare, un lago gelido, si staccherà a casa del volo cipolare molto instabile e si dirigirà verso il nostro paese. Per ora la direzione e se verrà è ancora tutto da confermare. Stando a qualche ora fa questo lago gelido si doveva andare a impattare, comunque arrivare direttamente verso la nostra penisola. Quindi portando temperature molto basse su tutto il nostro paese. Invece stando agli ultimi aggiornamenti, ovviamente è ancora molto presto per sapere le dinamiche precise e come andrà a svilupparsi. L'aria più fredda dovrebbe entrare solamente dalla bora, quindi portando una diluzione termica solamente sulla penura padana. Questo è ancora troppo presto per saperlo, ma per ora dobbiamo ancora aspettare i nuovissimi aggiornamenti. Vi annuncio solamente che c'è la possibilità dell'arrivo di quest'aria molto gelida. Vi ringrazio della visione e vi invito ancora ad iscrivervi al canale, lasciarmi un like e attivare la campanellina per un penalvervi. Nessun nuovissimo aggiornamento medio.